Buongiorno cari follower e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo delle nevicate che si sono verificate in queste ultime ore sulle Alpi Italiane, in particolar modo nel piccolo Tibet, cioè nella località di Livigno, come si vede da queste magnifiche immagini, infatti già a partire dalle prime ore di martedì 31 ottobre i fiocchi sono riusciti a cadere in maniera piuttosto intensa grazie a un repentino abbassamento della quota neve. La foto che comparirà ora si tratta di ieri mattina all'alba dove le velature alte e un paesaggio tipicamente invernale hanno provocato un forte effetto albedo, cioè effetto refrigerante grazie alla presenza di neve, favorendo così un buon mantenimento della neve e a una buona gelata con minima ieri fino a meno 8,5 gradi. Quest'altra magnifica foto è stata scattata all'incirca alle ore 13.45 di oggi dove un groppo precipitativo in passaggio e temperature comprese tra gli 0,5 e 1 grado hanno favorito la discesa di fiocchi molto grandi e bagnati che purtroppo non hanno recato accumuli considerevoli. Nei prossimi giorni, in particolar modo tra sabato e domenica, sono attese nuove intense nevicate sul piccolo Tibet con temperature molto negative questa volta, per cui la neve attaccherà benissimo. Visto la stagione, la norma, è giustissimo che ci siano queste nevicate. Su tutto l'arco alpino si registrano accumuli discreti, in particolar modo oltre che a Livigno, a Cervigna, dove questa mattina in due ore sono caduti circa 30 centimetri di neve.